Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa diciassettesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo una settimana parlando di una piccola guida che ho pubblicato sul blog che spiega come nascondere a barra del titolo su Manjaro XFCE in Firefox. Direte voi, è molto semplice, basta spuntare le opzioni all'interno dei menu di Firefox e il gioco è fatto. Questo però non è vero su Manjaro XFCE. Perché non è vero su Manjaro XFCE? Perché su Manjaro XFCE, ma anche su Manjaro Mate, perché anche lì è presente questa cosa, se noi andiamo a spuntare questa opzione in Firefox, i pussanti di Firefox di minimizzazione, massimizzazione e chiusura vengono integrati sì nell'interfaccia, quindi funzionano correttamente, resta però sempre visibile la barra del titolo. Quindi abbiamo una duplicazione dei pussanti, che uno sulla barra del titolo, l'atto integrati in Firefox. Questo perché? Perché su Manjaro XFCE viene pre-installato un pacchetto chiamato GTK3 Classic e una libreria ed è una versione modificata di GTK3 con delle patch per meglio adattarsi a XFCE e Mate, che sono due desktop classici. Cosa fa principalmente questa libreria? Va a disattivare i CSD, i controlli, quelli di nome per intenderci, quelli che sono tutti integrati nell'interfaccia. E questo fa sì che tutte e quante le finestre sono decorate soltanto dal gestore delle finestre. Risolvere in maniera d'argoniana si può, nel momento, questo pacchetto installato alla versione classica, così vuole fare tutte e quante le distribuzioni con XFCE. In alternativa, la soluzione più semplice, che va soltanto a modificare il comportamento di Firefox, è quella che consiglio, consiste nell'impostare una variabile nel lanciatore di Firefox. Sul blog vi spiego come pare, la guida è fatta per la versione XFCE, però è simile il comportamento anche per quanto riguarda mangiaromate, quindi la versione con Mate, quindi è soltanto da aggiungere questa variabile al lanciatore di Firefox e basta. Restando sempre in ambito XFCE, è stata rilasciata la pre-release di XFCE 4.14. Non ci sono molte novità rispetto alla 4.13 che era stata rilasciata qualche tempo fa. Qualche modifica in priorità dei gruppi d'avvio, qualche modifica nei miglioramenti al supporto del blanking verticale, o al supporto del HDPI, modifica, correzioni di bug varie e quant'altro. Sapete bene che il team di XFCE non è che è un grande team composto da tante persone, e non introduce tante grandi novità, procede anche con dei rilasci renti, perché appunto sono poche persone, e non fa stravolgimenti come altri desktop environment. Comunque, per gli amanti XFCE di questo desktop, che è molto flessibile, farà piacere questa notizia. Se volete provarla, potete farlo su Xubuntu 19.04 tramite il PPA Xubuntu QA Saging. In alternativa, fra qualche giorno, dovrebbe essere distribuita un container Docker ufficiale con XFCE 4.14 pre-1 per tutti quelli che vogliono testare senza compromettere il proprio sistema. Molto probabilmente, questi pacchetti arriveranno sulle prossime versioni stabili delle varie distribuzioni che utilizzano in XFCE. Già adesso, Fedoro, Xubuntu e Mangiaro, nelle versioni stabili attuali, in cui devono XFCE 4.13, quindi è quasi sicuro che nelle prossime release si arriverà alla 4.14. I prossimi passi? È prevista per il 30 giugno la seconda pre-release, e dopo quella, opzionale la seconda della stabilità, eventualmente una pre-release 3. Comunque, sul blog trovate maggiori informazioni e la roadmap possibile. Parlando sempre di desktop environment, vi ricorderete che la scorsa settimana vi ho parlato di Plasma 5.16 Beta, adesso è possibile testarlo su Qbuntu 19.04 tramite il PPA Qbuntu Beta Backports. Aggiungendo questo PPA, sarà possibile aggiornare aggiornare a Plasma 5.16 Beta sulla vostra Qbuntu. Ovviamente, sconsigliato di farlo sulla distribuzione che utilizzate tutti i giorni, se non siete pratici. Quindi, se non siete pratici, non mettete PPA Beta, che potrebbero regare qualche problema. Non ce ne sono. Però, sa, la sfiga è sempre dietro l'angolo, quindi non fatelo sulla vostra distribuzione principale, se non siete in grado di tornare indietro. In alternativa, potete comunque scaricarvi anche la Qbuntu 19.10, le immagini dei riquel che rigenerate giornalmente nella prossima versione di Qbuntu, perché sulla Qbuntu 19.10 è già presente la Beta di Plasma 5.16. Passiamo adesso al mondo delle distribuzioni. È stata rilasciata la community di OpenSUSE ha rilasciato OpenSUSE LIP 15.1 Questa versione è basata su Suse Linux Enterprise 15 Service Pack 1 Tutti i miglioramenti del caso riguardano principalmente gli AST che sono stati fatti agli AST i backport del kernel 4.19 miglioramenti supporto per i driver grafici aggiuntivi delle varie GPU con chipset AMD Vega miglioramenti come ho detto prima degli AST nelle configurazioni maggiore stabilità e sicurezza e quant'altro. Su blog comunque trovate tutte quante le informazioni su questo rilascio. Per una distribuzione che viene aggiornata l'altra invece ci saluta. Il team di Antergos ha deciso di abbandonare lo sviluppo della distribuzione. Che cos'era Antergos? Antergos era una derivata di ARC che consentiva di avere ARC di installare ARC con già un ambiente Dextro per i principali programmi driver e quant'altro senza dover installare e copiare codice copia e incollare codice da wiki di ARC Linux per appunto per poter installare ARC. Antergos consentiva aveva un installer grafico aveva anche una drive funzionante e un installer grafico che ti faceva scegliere desktop environment ti faceva scegliere cosa installare cosa configurare men che non si dica ti ritrovavi con una installazione di ARC di ARC funzionante. Aveva poi giusto qualche repository dedicato per alcuni pacchetti. Perché viene abbandonato lo sviluppo di Antergos? Questa distribuzione era nata nel 2000 era nata sette anni fa insomma era nata come hobby estivo e appunto aveva lo scopo di grande ARC Linux disponibile al grande pubblico fornendo un'esperienza semplificata user friendly per tutti quanti gli utenti. Che è successo? È successo che come spesso accade per questi tipi di progetti gli sviluppatori non riescono già da diversi mesi ad avere abbastanza tempo libero per mantenere correttamente la distro. Hanno deciso quindi di abbandonare e di evitare di tralasciarla di magari esporre problemi e quant'altro fare disservizi alla comunità hanno deciso di abbandonare completamente lo sviluppo di Antergos hanno deciso di far roba visto che il codice funziona ancora e di andarsene con stile i sviluppatori interessati possono cogliere la parola a bazo per saccheggiare i codici dei vari tool che venivano utilizzati su Antergos perché magari utilizzati nei propri progetti tanto è sempre software libero per quanto riguarda gli utenti di Antergos non c'è nessun modo di non dovete preoccuparvi insomma perché tutti quanti i sistemi installati continueranno a ricevere gli aggiornamenti direttamente da Arc a breve i team di Antergos pubblicano un aggiornamento che rimuoverà i repository di Antergos delle distribuzioni dei vari utenti e assieme a tutti quanti i pacchetti specifici di Antergos che non servono più una volta completato tutti i pacchetti installati dei repository di Antergos presenti in Aura inizieranno a ricevere aggiornamenti da lì quindi dovrebbe essere quasi invisibile e indolore questa migrazione il forum di Antergos e Wiki continueranno a essere disponibili però non è chiaro per quanto tempo ma si parla comunque di un'operatività massima di tre mesi quindi chiuderanno baracche e bucattini anche quelli dispiace dispiace che questo progetto venga abbandonato però come come tanti progetti open source di distribuzione o di software la testimonianza è che se non si riesce subito ad avere una base di sviluppatori pronta a portare avanti la distribuzione se si fa affidamento soltanto sul lavoro di poche persone i progetti non possono andare avanti ed è anche la dimostrazione del fatto che progetti buoni per quanto validi senza avere un ritorno economico possono generare situazioni di questo tipo perché dico senza avere un ritorno economico posso generare queste situazioni perché immagino quasi sicuramente questa è una mia opinione però è confruttata dai fatti da altri progetti che in passato hanno avuto la stessa sorte se uno ritaglia soltanto lo sviluppo della distribuzione nel tempo libero significa che ha un lavoro e quindi ha necessità appunto di mantenersi di avere un tetto sulla testa di avere cibo cibo a sufficienza e quant'altro quindi significa che non è riuscito a trasformare la propria passione il proprio software il proprio prodotto in qualcosa di economicamente sostenibile perché? perché non arrivano donazioni non si riesce appunto ad avere un riscontro economico perché se uno riesce a avere un riscontro economico per il lavoro che fa magari può fare come sviluppatore di altre distribuzioni come elementari o Linux Mint che hanno comunque la possibilità di andare avanti i sviluppatori di scrivere il codice di dedicare il sviluppo ore di lavoro o la scrittura del codice anche perché di fatto tra virgolette è retribuito dalle donazioni o ad altri strumenti di sponsorizzazione come elementari fra con Patreon o il fatto che per scaricare c'è la possibilità di effettuare una donazione prima di poter scaricare la distribuzione o di Instagram alcune applicazioni e quant'altro il team di Linux Mint invece è messo su un business un po' diverso è stata così apprezzata che ogni mese riceve molti soldi in donazione anche da grandi donatori e quindi diciamo così riesce a mandare su a baracca a tenere su vivo il progetto anche grazie a questo dovremmo dovremmo donare di più noi utenti Linux che molto spesso non trascuriamo questo lato parlando di distribuzioni veniamo a un argomento che è stato ripreso anche da siti non del settore il governo della Corea del Sud ha deciso di migrare al Linux ebbene sì attualmente il governo della Corea del Sud utilizza Windows 7 sui propri computer il cui supporto scadrà a gennaio 2020 ha deciso di non legarsi più a Microsoft non effettuare il passaggio Windows 10 ma di sviluppare internamente tramite organismi ministeriali di ricerca e quant'altro una distribuzione Linux che verrà utilizzata all'interno dei computer del ministerio dell'interno e della sicurezza oltre a questo verrà utilizzata anche da parte dell'esercito che utilizzerà questa versione di Linux chiamata Gureum OS spero di averlo pronunciato bene questa distribuzione nella fase attuale verranno effettuati dei test per quanto riguarda l'esercito verrà adottata a breve verranno effettuati anche dei test nelle parti del ministerio nella fase iniziale verranno testate solo su poche macchine poi se non ci saranno troppi problemi di sicurezza verrà adottata su larga scala è una derivata di Debian sviluppata dalla National Security Research Institute ed è supportata da circa 30 aziende locali che hanno come business aderito a questa piattaforma Ancom è una delle aziende più grandi che ha aderito e ci ha aderito nel 2015 cosa prevede l'utilizzo di questa distribuzione praticamente è Debian con alcune modifiche che sono state fatte per garantire gli adeguati standard di sicurezza richiesti dalle forze armate e dai ministeri la piattaforma offre un proprio browser web un sistema di gestione centralizzato in grado di supportare il cloud computing consenze agli operatori di controllare l'accesso di utenti e dispositivi e Ancom ha deciso che svilupperà oltre a il browser anche uno world processor per per grano s molto importante questa cosa perché è importante perché fa capire che anche i vari stati iniziano ad accorgersi del fatto che non ci si può legare ad aziende private per determinati settori quindi adesso la Corriere del Sud con questo progetto se andrà in porto correttamente si sarà libera libera dai vincoli di Microsoft libera dai vincoli dell'assistenza libera dai vincoli dei bug e quant'altro libera dai vincoli dai problemi eventuali di infiltrazione diciamo così e ci sarà anche una ricaduta occupazionale perché se prima il supporto era gestito da Microsoft adesso il supporto grazie a questo consorzio di 30 aziende che fanno parte di questo consorzio che ha deciso di far parte di questo business quindi saranno loro a sviluppare software fare assistenza e quant'altro quindi c'è una ricaduta sul territorio c'è una ricaduta di aziende locali quindi ottima cosa per me la Corriere del Sud ha fatto veramente un grandissimo passo in avanti e tutti quanti gli stati dovrebbero seguirla passiamo adesso invece al rilascio di Firefox 67 Mozilla ha annunciato il rilascio di questa nuova versione di Firefox Windows Mac OS Linux e Android la parola d'ordine di questo rilascio è velocità questa versione di Firefox offre prestazioni migliorate è stata aggiunta una protezione contro Crypto Miner e Fingerprinter di cui vi ho parlato qualche settimana fa ed è stata aggiunta una funzionalità da alcuni criticata che praticamente non so se avete se utilizzate Google Chrome da qualche resa a questa parte su Google Chrome c'è l'Avatar che sta a indicare il nostro utente l'utente che noi utilizziamo per sincronizzare per sincronizzare Google Chrome con altri computer nostri che utilizziamo con Google Chrome questa funzionalità di sincronizzazione di preferiti password estensioni e quant'altro c'è anche su Firefox a diverso tempo l'opzione però prima era nascosta all'interno dei menu non tutti la vedevano subito adesso il team di sviluppo di Firefox ha deciso di mettere il iconcino fuori e di rendere visibile per me è un fatto benissimo e tutti quanti quelli che stanno criticando questa scelta giudicando come una cromizzazione di Firefox per me sbagliano per me ha fatto benissimo a mettere qui quindi brava Firefox parlando di browser derivati da Firefox è stato rinunciato Tor Browser 8.5 la grande novità è che questa è la prima versione stabile offre la prima versione stabile anche per Android quindi potete scaricarla dal Play Store o tramite appk presente sul sito ufficiale infine ultima notizia della giornata ultima notizia della puntata ho aperto la community di Marcosbox su Telegram Marcosbox community quindi cercatela così o cliccate direttamente sul link che trovate su Marcosbox è un luogo aperto a tutti potete scambiare opinioni consigli quant'altro discutere di tutto quello che vi interessa ovviamente principalmente dei software di propensores ma anche l'informatica a 360 gradi gestitevela voi fate voi quello che volete fare di questa di questa community io ci sarò risponderò nel limite del ovviamente del tempo così come già faccio attualmente ai vari lettori su Telegram su Gmail su Mail tramite post elettronica tramite sito tramite Facebook ho sempre risposto a tutti lo sapete questo però è un luogo in più perché dove non posso rispondere io direttamente potete rispondere direttamente voi potete contribuire a aiutare altri utenti se sapete qualche cosa potete condividere se avete qualche notizia che volete far condividere su blog io la prenderò e volentieri la sviluppo sul blog quindi iscrivetevi numerosi ho visto già che molta gente che mi seguiva prima su Google Plus come ha visto l'apertura del canale è arrivata in massa quindi sono contento sono contento di questo riscontro bene lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao ciao